Centri storici ed ambiti di contesto, è il nuovo sistema informativo territoriale individuato da Palazzo Alemanni quale elemento di sviluppo del territorio e della cultura locale dell'intera Calabria. Il progetto, presentato in questi giorni in Regione dall'assessore all'urbanistica e governo del territorio Pietro Aiello, individua nell'azione di recupero dei centri storici una delle priorità di intervento per un processo di riqualificazione del sistema urbano calabrese. Un processo regionale che parte da lontano, già negli anni passati infatti, il Dipartimento urbanistica aveva sottoscritto l'accordo di programma quadro Emergenze urbane e territoriali, destinato ad interventi per l'individuazione dei centri storici. Successivamente è stato sottoscritto il protocollo d'intesa con il Ministero per i beni e le attività culturali per la realizzazione del sistema informativo Centri storici ed ambiti di contesto. Ritornando ai nostri giorni, è stato approvato lo strumento normativo per la catalogazione del territorio regionale dei borghi, che produrrà l'implementazione di un sistema informativo, in conformità con le normative nazionali. L'iniziativa, coerente con il Port Calabria FESR 2007-2013, riconosce ai centri storici quale parte significativa del tessuto urbano, in termini di opportunità di sviluppo, potenziamento dei servizi urbani, recupero dei valori locali, al fine di attrarre flussi turistici. Il sistema costituirà quindi il punto di riferimento, in ambito regionale, per le attività di documentazione dei centri storici della regione, e deve dunque considerarsi anche quale occasione territoriale che permetterà di far emergere le tante peculiarità della Calabria, che vanno dai beni culturali a quelli paesaggistici.